Il motivo per il quale siamo qua oggi in Cioccaro è la pista dell'intero tra le 10.00 per il nostro. Aspettiamo il piano industriale che sappiamo già prevede 3.15. Per il punto di vista fuori, questo ci serve già di essere qua oggi per fare il bicchetto presidio. Alle 10.00 ci sarà la videoconferenza con Gisela Baconelli, i sindicati nazionali e i commissari dell'ex-infa. Ci auguriamo che il governo prenda una posizione seria e decisa perché non possiamo più andare avanti. Nel 2012 possiamo essere qui e ora è molto cominciato a trovare una fine. Ora andremo in Alessandria a collegarsi a videoconferenza con il Ministero. Dopo torneremo qua nei laboratori a spiegare quello che è stato l'esito della riunione a livello nazionale.